Finché non sarai morta. E ci credevo. La fisicità, la rigidità e tutte le cose che stava mettendo in atto. Pensai, ok, potrebbe funzionare. A metà delle riprese girammo la scena della stazione di polizia. Sono un amico di Sarah Connor. Mi hanno detto che è qui. Potrai vederla? No, non può. Sta facendo una deposizione. La battuta era ritornerò. Non doveva essere un momento importante. Doveva essere letteralmente nient'altro che nessun problema. Ritornerò. Ritornerò. Per qualche motivo Arnold non disse ritornerò. E gli chiesi di solo ritornerò. Semplicemente. Risposi, Jim, a me suona strano quando dico ritornerò. Sembra molto più una macchina se dico... Tornerò. E lui... Sei tu l'autore? E io, no? E lui... Beh, non dirmi come cazzo scrivere. E io, ok. Tornerò. Ah, sì, 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 sì. Oh, mio Dio. Mi è venuta la pelle d'oca. È fantastico. Tornerò. 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 Oh, Yes, sì. Tornerò... Equipери...